Il museo di Pergamo è attualmente in ristrutturazione, verrà infatti dotato di una quarta ala entro il 2025, ma i lavori in corso prevedono anche la creazione di una passeggiata archeologica in grado di collegare tutti i musei dell'isola e guidare il visitatore in un viaggio attraverso l'arte, da quella più antica ai copolavori della modernità. Grazie a tutti.